Si dice che le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza e che i caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici, forse perché non hanno mai incontrato me. Sono Ettore Viandante, detto anche il milanese, capo della mafia più pericolosa di Los Santos, conosciuta come la mano. I soldi sono il mio scopo, il rispetto, beh quello lo esigo. E l'amore, quello è arrivato davvero in modo inaspettato, Zora, che è entrata nella mia vita come un fulmine a ciel sereno. In tanti hanno provato a fermare il mio impero, gang, criminali e altre organizzazioni mafiose, ma tutto in vano. Se vieni nella mia città sappi che vigi una sola regola. Se provi ad ostacolarmi, se tenti di fregarmi o provi solamente a fermarmi, scappa più lontano che puoi. Perché se ti prendo, ti assicuro che lo farò. Sei un uomo morto. Perché guarda caso abbiamo tua mamma. Guarda a casa. No, ma che storia.